un nuovo logo e un nuovo look per il bel giardino sabato lungo le rive dell'adda fra l'odio montanaso gli abituali frequentatori del parco pubblico potranno vedere con i loro occhi le migliorie apportate in questi giorni dalla vasca in boys la società sportiva che si è aggiudicata la gestione degli impianti natatori della ferrabini e del bel giardino lo hanno riferito il presidente della società luigi pasquini e l'assessore allo sport tommaso premoli campo di pallavolo spazi per il calcio campo di bocce in sabbia sono solo alcune delle novità che verranno offerte ai vacanzieri di casa nostra non è stato facile rimettere a nuovo una struttura legata dai vincoli del parco a da sud ma con la collaborazione di tutti ci siamo riusciti ha ribadito gigi bisleri abbiamo già pronte diverse iniziative per valorizzare gli impianti a disposizione ha confermato silvia reggiunenti annunziando l'avvio di corsi per tutti e per tutti i gusti dal risveglio muscolare alla triathlon dal nuoto alla canoa non resta che fare un salto sabato al bel giardino per verificare con i propri occhi